Sono barinagli esperti? Non stai parlando di me, Allo? È gigantesco! Ah, mazzo, ne hai di cosa da dire, maledizio! Ehi, gente, qui! Questo è il video del bevolo sul canale con questo nuovo video! Mi sono andato ai coglioni di essere interrotto! Ritorniamo con Subnautico dopo esserci lasciati a 200 metri di profondità, apparentemente, dai nostri commenti! Però il gioco sta ancora caricando! Dopo aver fatto che cosa? Ah, no, avevamo raccolto il litio, abbiamo incontrato il Kraken Rosso! Mamma mia quante cose ho avuto da dire! Abbiamo messaggio... Non sono neanche partito, ho già investito qualcuno! I begli episodi, proprio! Gli inizi migliori! E niente, siamo arrivati... Salve! A posto? Immagino che lei stia cercando qualcosa da mangiare, eh! Spoiler! Io non sono quella cosa che sta cercando! Grazie! Vaffanculo! Vola via, ragazzo! Non ci dobbiamo far vedere da quello... Da quella piovra gigante! Maledetto squid di tentacolo! Oh mamma mia, quello è lui, quello è lui! Questo... Ah, manovra evasivo numero 12! Fra i coralli! Senza schiantarci! Wow! Pirouetta del male! Schianto tattico per aumentare velocità in ascesa! Scisto? Mi sta seguendo? Non lo vedo, non lo vedo! Non so fino a che profondità mi può raggiungere questo coso più che altro! Però vedo dall'uscisto! Che vuol dire potenziale? Ah, vaffanculo! Potenziale è un cazzo! Potenziale litio! Perché praticamente c'è crisi di litio per me, eh! Ho bisogno di litio! Mi serve per tutto! Cioè, per fare del plastaceo mi serve due di litio! Per fare una scorreggio mi serve il litio! Per respirare mi serve il litio! Per fare un rutto mi serve il litio! E allora, eh! Ci decidiamo! Chi è che mi scrive le quattro di notte? Che cazzo? Ma sono la persona più importante del mondo a quest'ora! Non mi cagano per tutto il giorno! Ma è le quattro di notte! Quando mi metto a girare! Iniziano ad arrivare i messaggi a go go! Bastardi che sanno che è sveglio! Devo togliere lo stato whatsapp, l'ultimo accesso! Devo fare la fighetta! Anch'io lo sai, la fighetta desiderata! Quelli che tolgono lo stato whatsapp! Sono persone che secondo me hanno bisogno di attenzione! Ah, sono serio! Perché cazzo togli lo stato whatsapp? Volevo dire, cos'hai da nascondere? Sei ricercato dalla CIA! Ok, qua è profondo! Ma sto veramente tornando a casa? Ok, no! Eh! Cosa? Cosa? Eh! Non ho capito bene, vieni qua! Eh! No, no, spiegami un po' meglio! Non ho capito! No, no, dove vai? Dove vai? No, no, mi devi spiegare quello che stai facendo! Maledetto pesce! Rio mare di sto cazzo! Ma non lo so io! Ma come si permette? Eh, sti maleducati! Mi ha mozzicato il mio cosetto! Ma puoi essere così maleducato? Io non lo so! La sfacciataggine di sti giovanottio! Guarda che fai alla fine del tuo fratello, eh! Eh! Occhio come mi guardi! Se mi far di male! Eh! Finisci male! Ah! Mo' qualcuno di voi sarà disiscritto perché probabilmente... Eh! Toglie lo stato whatsapp! Ahahah! Sto sentito offeso! Guarda! Io personalmente... Si impara! Almeno per lo meno se... Vuoi andare avanti? A fregartene delle battute degli altri! Prendi tutto con una risata! Che potrebbero anche dire che sei un demente! Ahahahah! E' la rizzo! Perché conviene di gran lunga... Essere, come dire, aperti a ogni genere di critica piuttosto che... Ribattere su ogni cosa! E' giusto ribattere ma solo sulle cose su cui valga la pena combattere! Combatti le guerre che vanno combattute! Come dice Sun Tzu! Non... Non devi essere... Il vincitore non è quello che affronta tutte le guerre! Ma quello che combatta è quello che... Che vince quelle che vanno vinte! Tutto qua! E' questo il segreto della vita! Lasciate perdere questa cosa che si chiama orgoglio e... Concentratevi su quello che vale la pena! I soldi! Concentratevi su una carriera di successo! Di fare a grana! Di non lavorare mai più dopo i 30 anni! Questo il sogno! Ta 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 ta! Vieni qua! Cambia la batteria! La grande! Metti quella scarica qua! Prendi quella carica qua! Allora! Adesso cosa dovettimo fare? Bla! Bla! Indovina un po' cosa avviene dopo! Perché è un cavolo di poster nel mio inventario? Keep calm! A parte che lo dice la persona sbagliata! Keep calm! Lo dice a tua sorella! Keep calm! Non ti permetterà mai più di dirmi di stare calma! Perché ho quest'uovo con me? Però ho trovato un'unità di contenimento aliena, no? E' vero che l'ho trovata! Ma c'è un'unità di contenimento aliena? Vediamo che cosa mi esce fuori! Oh sì! 5 di vetro e 2 di titanio! E' la maledizione! E' la maledizione! Ce l'ho 5 di vetro io! Ho tanto quarzo! Questo sì! Ma 5 di vetro non lo so! Anche il 2 di titanio! Allora mi serve aerogen, lubrificante... Aspetta! Facciamoci delle cose per cui abbiamo iniziato la puntata! L'obiettivo di questa puntata è farci il maledetto ciclope e soprattutto... Mi serve il pastacciaio! E soprattutto quella tuta muta prone! Questi sono gli obiettivi di questa puntata! Quindi... Puntiamo quello poi penseremo al resto! Lascia i diamanti che al momento... Non ci servono! Non avrei mai pensato di dire che non ci servono i diamanti! Ma dopo tutto questo non è Minecraft! Dov'è questo? Ok! Mi sa che mi serve ancora più pastacciaio, vero? C'è il ciclope riesco a farlo ma non mi pare che mi basti abbastanza... Cioè non mi basti il... Vetro smaltato! E neanche il pastacciaio per farmi il resto! Però mi serve anche del lubrificante! Un dato di fatto! Dove l'ho lasciato il lubrificante? Tre piombo! Tre di plastacciaio, uno di lubrificante e uno di circuiteria avanzata! Qualcosa del genere, vero? Come si fa uno di circuiti avanzati? Cavetteria, cavetteria... Eh la madonna! Cavetteria e microprocessore! Eh hai rotto il cazzo! Improvvisamente l'oro è diventato utile! Ma non mi è servito per tutto il gioco! All'improvviso è diventato interessante! L'astracorallina 2 e filo di rame! Quindi mi serve due di rame, due di lastracorallina... Io ho uno di lastracorallina... Maledizione! Oro oro! Lastracorallina... Corallina! Allora eh! La Coraline! Scusami! Andiamo a prendere l'astracorallina! Dov'è? Dov'è la posso trovare? Eccola qua! Quanta ne vuoi? Uno... Due... Dov'è? Ok! L'astracorallina ci fu! Rientro! E poi... Cos'altro mi serviva? Oro! Mi serviva dell'oro, vero? Filo di rame... Per il microprocessore... Ok... Mi serviva due di oro... Uncora uno di oro... Ok... Ok... Abbiamo anche la cavatteria avanzata... Interessante! E adesso... Credo che possiamo permetterci... Ma posso guardarlo dal tablet... Per evitarmi un viaggio per niente... Cos'è questo? Fibre sintetiche... Benzene, fibra a rete... Ho paura che mi servirà per qualcosa tipo l'astronave... Fluido di rame... Blah! 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 È zitta! Faccio il cazzo che voglio, ok? Propulsori del Neptune... Ah, sì, è vero... Non so cosa è il Neptune... È quello per partire via... Eeeh... Tatatà... 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 Dove cacchio è? Raga... Non riesco a trovare niente... Ah, eccolo qua... Ah, vetro smaltato 3... Vedi, pensavi di fregarmi... Il vetro smaltato è qualcosa che non ebbi... Perché mi servirebbe un dente di stalkerigno... Un dentino di stalkerigno... Dentino di stalkerigno... Pipu... No, fermo, fermo... È per uscire... Mi serve un dentino di stalkerigno... Pipu... Non funziona più la mia videocamera... Ho la connessione wifi scarsa, maledizio... Oh, 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 oh... Oh, che dove metti quei denti, eh? Dente di stalker... Qua non c'è un dente di stalker? Così non devo farmi il giro del mondo in 13 giorni? Ah, ma forse è più vicino del previsto, il dente di stalker... Dovremmo comparirmi anche senza, vero? Esattamente... Ma dove me ne serve uno solo, no? E si va, si parte... Forza, dentro il mio Seamot... E si va ad esplorare... Oh, vette inesplorate... No, è vero... O sei te... Sai che cosa ti posso dire? Quello che dico quasi sempre... Blà! Dove... Cosa? È sparito... Ah... Blà! Blà, blà! Ce l'avevo qua, due passi proprio... La grande... Più vicino del previsto... Come c'è arrivato un dente di stalker? Fim qua... È passato un stalker? Non me ne sono accorto... Scusi... 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 Sco... 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 Ok... Abbiamo anche un dente di stalker... E adesso... Abbiamo tutto... Possiamo andare per... Non lo so... Utilizza questo... Così ho 100 di vita... Poi... Sai cosa? Fammi un favore, va? Litio... Ah, le cose interessanti... Non me le trovi giustamente... Beh... Rottami tutte queste cagate... Me le trovi a destra e a sinistra... Però quando mi serve... Il litio... È qualcosa di interessante... Cos'è frammento? Di che cazzo stai... Cos'è il frammento? Velocità... Raggio... Drone e videocamera... C per l'interfaccia... No, non c'è niente... Quindi roba di interessante... Tiamo magnetite, litio, nickel... Attaccati al cazzo... Buona fortuna... Maledizione... Ma se sei un maledetto... Sei come pochi... Posto? Ma il sale possiamo anche scartarlo... Dimmi che lo posso utilizzare qui... Dimmi che lo posso utilizzare qui, Frank... Curati... È un bioreattore... Il... 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 Il NACL non è bio... NACL... Esattamente... Sodio... Natrium... È latino... È cloro... Mi pare... Non faccio chimica da 40 anni, praticamente... Però qualche stronzata ancora me la ricordo... Maledetta chimica... L'ho studiata solo per Breaking Bad... Ovvio... Era il mio sogno fare... Il metanfett... Ah... Metanfett... Metanfettominomane... Cazzo lo posso dire... Non disolare la polizia però... Era il mio sogno diventare Walter White... Mr. Heisenberg... Allora... Siamo off... Dì, siamo off... Nel ciclopino... Must be constructed in deep the water... Oh... Palle... Con tutto sto lavoro... Basta... Ma fammelo dove ti dì... Come... Invent... Cosa vuoi di più dalla mia vita? Inventario pieno adesso... Lascia tre di più a un buco qua... Me ne ricordo... Va bene così? No... 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 Ah... Posso raccogliarlo... Ah... Ce l'abbiamo fatto... Quanto profonda la vuoi quest'acqua? Dove l'ho lasciato il piombo? Ok... Me ne ricorderò che è più o meno là... Eeeh... Quanto profonda la vuoi quest'acqua? Devi farmi capire... Pensavo che magari sarei potuto entrare lì... Con il mio ciclope... Ma allora come lo carico? Mi servirà il caricatore per cieli di energia... Porco schifo... Porco schifo... Frank! Mi servirà il caricatore per cieli di energia... Mi sa... Maledizione... Le sto fante che non sei altro... Ma puoi faremi questi scherzi? Questa era quella bestia? Ho sentito... Dovrei guardarmi in giro? Dovrei preoccuparmi secondo voi? C'è stato? Ho sentito... Eeeh... E io ho fatto... Eeeh... Non farmi... Eeeh... Che poi... Ma intendo eh... E io ho fatto... Eeeh... L'ho sentito vero? Non sto inventando... Sono allucinazioni? Ti può dirlo... Eeeh... Fammi... Eeeh... Sarai tu pesce boomerang... Dove scappi? Vieni qua... Boomerang cotto... Buon appetit... Chi? Gary! Gary! Vieni qua! È lento Gary... È stato il suo errore... Nascere lento... Tra l'altro... È lento ma... Ma... Eppure vale un cazzo... Scusami... Ehi! Tieni con le chiappe strette eh... Che non trovo più il mio... Eccolo qua... Il mio craftaggio delle macchine... Tieni con le chiappe strette... Non le ha tenute strette maledetto... Sui... Ok... Facciamoci sto cacchio di ciclope... Vediamo quanto è gigante... Progetta... Oh! Costruisci un ciclope... Ma... Aaaaaah! Sono barinagli esperti? Non stai parlando di me allora... È gigantesco! Ma che è sta roba? Ma è più grande di quel kraken? Vediamo se ancora voglio di toccarmi quel maledetto... Dopo... Porca mannaggia... Ma è un cavolo di yotch! Un yotch subacqueo! Come si entra qua dentro? Da lì? Come si entra dentro sto coso? Reg! Ti devi evitare! Come si entra qua dentro? Sembra gigantesco! È gigantesco! Ma dov'è la porta? Raga! Dov'è la porta? Ah! Eccolo qua! Mi faccio del previsto! C'è proprio scritto per gli scempi... Entra nel ciclope, idiota! È fatto per essere pilotato da tre... Da tre... Da tre... Gendarmieri! Come si chiamano? Da tre maledetti! Lanciatori di esche! Eh mamma mia! Ma... Oddio mio! Un, due, tre celle di energia! Quattro, cinque, sei celle di energia! Sei forse matto? Prendi l'estintore? Eh, oh, sembra qualcosa di molto complicato questo... Questo coso! Però so di aver sbloccato una cosa che si chiamava il reattore del ciclope! Nessun veicolo attraccato? Ah sì, è vero che mi avete detto che posso trasportarmi la tuta... E il Siamov qua dentro! Posso pure cambiare il colore di sto coso! Allora, tu sarai... No, fermo! Sia! No, tu non sei Siamov, tu sei... Ciclope! Ciclo! Pinus! Mark! Uno! No! Non mi fa mettere l'uno! No! Allora sarà il ciclo Pinus Primo! Sarà il ciclo Pinus Primo! Alla grande? Come moto... Cosa? Cosa? E la madonna! Ma è sta roba! Ma in questo posso investire i dinosauri! Avanti tutta! Avanti piano! Quanto è avanti tutta? Che vuol dire avanti tutta? Quanto sono veloce! Quanto sono veloce! OI! Scusi! Ah! Fa tanto rumore! E attira le bestie più simpatiche! Ah! Oddio! 100% di energia! Spero che duri! Spero che duri quanto un Nokia di vent'anni fa! Non quanto un Nokia Lumia! Bella madonna! Beh non è trascurabile! Come sirena! Ma io la vorrei una sirena! Mi sento molto solo! Pure! Madonna mia! Ma che è sta roba! Che vuol dire modalità silenziosa? Che non parli più? No! Sfortunatamente no! Ma dov'è la mia amica... Che mi... Co... Co... Cosa? Come overheat? Fermo! Dove me la mostri la temperatura? Beh... Coso? Mi hai detto che mi mostri... Dov'è la temperatura? Qual è la temperatura? Cos'è questo? Fari esterni off! Questa è la vita! Ok! Quindi più o meno capisco dove sono danneggiato! Ma... Dov'è la temperatura? What the fuck? Raga! Ma questo è... Serve una laurea di... Cosa? 97? Ho fatto mezzo passo! Ho fatto! Che roba! Spegni sto coso! Spegni sto coso che veramente... Ho paure! Ok! 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 Ragioniamo! Ragioniamo! Esci da qui! Esci da qui! Ci vedo! Ci vedo ancora! Mi serve una mutaprona adesso! Il resto lo facciamo dopo! Me lo mostro sulla mappa per cortesia! Ciclopinus! Che bel nome! Il nome è stupendo! Ma non me lo mostra sulla mappa! Questo è il problema! Vediamo! Forse lo devo abilitare qua! Neptune! Ciclopinus! Sì che me lo devi mostrare! Assolutamente! Me lo voglio bello giallo! Colore della vita! Dov'è? Eccolo là! Ciclopinus! Mi piace! Ciclopinus primo! Spero che sia anche l'ultimo! A fare tutta quella fatica a raccoglierne un altro! Le risorse per un altro ciclopinus! Ehi! Ne va di strada da fare! Adesso vediamo se riusciamo a costruirci quella maledetta tutta di merda! Di mutapron! Aspetta! Non ho guardato! Qual è la profondità che può raggiungere? Perché io do per scontato che con questo potrò raggiungere profondità massime! Massime! Cioè potrò raggiungere l'inferno! Nuotare con Caronte e Lucifero! Fè! Io do per scontato quello eh! Ma magari mi sbaglio! Dov'è l'altro? Dov'è l'altra mutapron? Ma magari ci stanno due cose... No secondo me ci sta una sola cosa immagazzinata là dentro quindi... Bene così! Eccolo qua! Vroom vroom! Cicabum bum! Forza! No! Ma perché devi fare queste cose brutte? Perché sei così maleducato con me? Perché mi devi maltrattare? Perché l'hai raccolto? Maledetto! Per una volta che voglio... Non voglio avere abbastanza inventario... Arrampicati! Maledetto! Ok! Vediamo se ce la facciamo! Mutapron! Due di plastacciaio! Uno di vetro smaltato! Mi serve un altro dente! Due di diamante! Ma non è troppo! Questo è più facile! Dov'è? No! Aspetta! L'ho tolto! Ecco perché non c'era! Adesso mi serve un altro dente di stalkerino! Di stalkerino! Voglio fare il delfino qua! Grazie capitanessa! La mia capitanessa! La mia unica compagnia qua! Mi sento molto... Mi sento molto... Mi ha morso? Oso! Ma dove metti quei denti eh? Vada eh! Vai via! Maledetto! Cosa? E lui che si sta divertendo! Ma... Ma figlio di... Adesso arrivo aiuto a te! Dove sei? Brutto stronzo! Dente di stalker! Che stai facendo? Ah! Sta facendo là! Non riuscivo a capire! Dov'è? Dov'è? Il maledetto... Oh! Dente di stalker! Dov'è il mio scanner lì? Non dovrebbero mostrarmelo? Ah! Eccolo là! Figlio di... Vieni qua! Vieni qua! Molla il mio maledetto amico! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Dove scappi? Dov'è? Ha usato la manovra visiva numero 12! Bastardo! Ha imparato da me! Dal milione! Vieni qua! Così impari a mordermi i miei maledetti! Non scappare! Non scappare! Non scappare! Bel cattino di tue scolacciate! Ah! Figlio di puttana! Non è finita! Non è finita! Guarda che scappa! Figlio... Non è... Non... Non è finita! È morto? Ahahahahah! Oggi si mangia stalker! Maledetto! E non mi troppa manco un dente di stalker! Cioè guarda quanti denti... Posso fare il dentista letteralmente... No! Attaccati al cazzo! Non sono fatti i tuoi! Ok! Dente di stalker è lì a profondità 9.000 bassi! Sto morendo! Cosa dicevo? Un raffreddore da una settimana! Maledizione! Colpa mia che ho smesso di farmi le docce ghiacciate! Quando me le facevo... Non mi ammalavo neanche da lontano! Ora... Ho deciso di diventare una checchetta! Ed ecco qua cosa è successo! Mi sono ammalato! Ah... La tauromachia! Niente dente! Dov'è sto dente? L'hanno nascosto! Oh aspetta un attimo! Aspetta un attimo! Alla grande! Ah me ne serve uno! Non è che... Mi serve che sa cosa! Per ora eh! Se mi distruggo uno ciclopinus... Beh! Beh! Quella è un'altra storia! E' una puzza! Inmediato! Mi ha ascoltato al volo! Non ci ha pensato due volte! Fattene una anche voi! Qua... Non esitano un mezzo secondo a farle! Ah ma... Ma lascia... Ah lascia uno sfere che diventano puzze! Io le posso raccogliere in tempo! Per impedire che esplodano! Geniale! Questa è genialità avanzata! Adesso mi serve... Vetro smaltato! Due plastacciaio! Bla 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 bla! Plastacciaio mi serve tanto titanio! Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! La grande! Levati! Levati! Ok! Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Nove, dieci! Dì già! Mamma mia! Che roba che sei! Porca miseria! Sempre a bere! Se sei un alcolizzato di merda! So io! Personaggio preso! Mamma mia! Io, 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 io che bevo una volta al mese! Infatti mi sono venuto alle coliche renale all'età di vent'anni! Mi sono venuto... Ho venuto bere molto di più! Errore mio! Ne sono consapevo! Petro smaltato! Due di plastacciaio! Mi serve una del lubrificante, vero? Questo che c'ho il tablet! È per questo che c'ho il tablet! Cosa mi serve? Modulo reattore termico! Converte l'energia termica ambientale! Oh, tu, 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 tu! Cianita! Ah, cianita! Ok! Pensavo di costruirmelo! Ma perché ho visto polianilina! So come si fa! Ma ho visto cianite che... Dove cazzo è? Ah boh! Ah boh! Modulo di efficienza è benzene! Benzene so dov'è però... Cioè so come si fa! Però è abbastanza lontano! Si trova nell'altra base! Servono le palline rosse per farmi il benzene! Poi l'energia non è difficile! Modulo di efficienza non è male! Però vabbè! Pensiamo prima a farci tutto il resto! Poi penseremo! Questo è veramente interessante! Solo che non so dove... No, dov'è! Dov'è? Tubo di esche? What the fuck? Come ci sta il tubo di esche? Questo sembra molto interessante... Dov'è qualcosa di interessante di cui vi parlavo? Che cazzo stai facendo? Quale cosa è da solo questo gioco? Dammi qua! Stavo dicendo... Non questo! E vabbè dai! Facciamo che la muta pro non la faccia nella prossima puntata! Vi ringrazio per aver guardato fin qui! Mi auguro di vedere nella prossima puntata! Non dimenticate che siate i migliori! E vi auguro il meglio! Bella bella!